Registra, perfetto. Quindi forse dovete accendere da qualche parte. Eccoci qua. Allora, cominciamo ufficialmente questo webinar, era un po' che non ne facevamo, noi del progetto Artes. Allora, felice di tutti coloro che si sono collegati e felice di presentare Danilo Beltrante, che è un personaggio molto noto nel mondo dell'extra alberghiero. Ecco, noi come Artes diciamo che abbiamo qualche aggancio, ma non siamo agganciatissimi. Però siccome con Danilo è nata un'amicizia ormai già da qualche anno fa, in modo che io ne lui ci ricordavo come è nata, oggi ravvidiamo questa amicizia e come probabilmente avete visto anche nelle passate edizioni, in questo format protagonisti e territori stiamo periodicamente presentando avventure di persone che sono durate anni. Avventure, l'abbiamo chiamata la splendida avventura, perché ha avuto un inizio di una persona, le persone nella vita fanno tante cose e arrivano ad oggi e poi chissà ci racconteranno anche di domani. Per cui benvenuto Danilo Beltrante, fondatore di Vivere di Turismo, che è una società benefit da poco tempo e che è oggi leader appunto nel settore della consulenza e della formazione in ambito extra alberghiero. Tra l'altro anticipo un piccolo dettaglio che mi ha detto un attimo fa Danilo, a metà novembre poi Danilo spiegherà meglio, ci sarà il Festival di Vivere di Turismo e mi ha preannunciato che hanno già 1300 partecipanti. Ecco, quindi chapeau a tutta la tua organizzazione e poi a quello che ci racconterai dopo verso la fine di Vivere di Turismo. Allora, prima di iniziare la splendida avventura, Danilo, intanto benvenuto, vuoi molto brevemente accennare la realtà che tu oggi presiedi, almeno così diciamo chi ci ascolta sa che cosa è Vivere di Turismo. Grazie, intanto dell'invito, sono estremamente emozionato di essere qua. Ho una connessione che ha deciso in questo momento, ma sempre bella la mia connessione, in questo momento ha deciso di essere ballerina, quindi vi chiedo solo un feedback se mi sentite bene. Ci sente bene, ci sente molto bene, molto bene. Sono, dicevo, molto felice di essere qui insieme a voi, insieme a Maurizio, poiché Maurizio a un certo punto della storia della mia vita è stata una sliding doors estremamente importante perché mi ha fatto scoprire l'economia civile, mi ha fatto scoprire un nuovo modo che esiste di approcciare al lavoro, ma direi alla vita, che era molto più vicino a quello che era ciò che sentivo giusto per me stesso e per la mia società e che è in qualche modo assegnato gli ultimi quattro anni della mia vita in maniera profonda perché c'è stata la prima fase di teoria dove ho approfondito questi argomenti, poi c'è stata una fase di messa a terra quindi di queste cose e oggi questo percorso si è concluso per modo di dire come diceva Maurizio con la nascita della Vivere di Turismo Società Benefit. Ci occupiamo di formazione e consulenza per il settore extralberghiero, tutto ciò che non è albergo, quindi case vacanza, property management, masserie. Da noi ai nostri corsi o ai nostri eventi partecipano host, property manager, proprietari di immobili che vogliono fare il lavoro dando un significato più alto rispetto al semplice affittare la casa, lo vogliono fare con serietà, con la legalità, seguendo quindi la normativa e vogliono accogliere le persone lasciando il segno mi viene da dire, ci tengono a quello che fanno perché se uno studia per far meglio questo lavoro è evidente che vuole distinguere sia la massa, ci tiene a fare bene ciò che fa. Io personalmente sono stato un gestore fino al 2021 per 16 anni da un bed and breakfast, poi ho esplorato anche il mondo del property management, siamo arrivati a gestire fino a 50 immobili a Firenza, quindi conosco bene le esigenze, i desideri, le problematiche, le sfide di questo settore. Dal 2020 con la Vivere e i Turismo Business School ci siamo dati come mission quella di cercare di rendere, ci siamo messi al servizio, poi magari si entrerà un po' nel dettaglio, ma insomma in linea di massima mi viene da dire che ci siamo tutti messi al servizio degli operatori che fanno questo lavoro per cercare di aiutarli a fare ciò che è in un albergo. Ci sono 5, 6, 10, 20 persone a lavoro per tutti i vari reparti, mentre spesso nella casa vacanza la stessa persona si occupa dall'amministrazione, al marketing, all'accoglienza, al giardinaggio, alle manutenzioni, al rifacimento delle camere, alle colazioni, quindi capite bene che fare tutte queste cose in maniera professionale bisogna essere estremamente motivati, ma anche attingere una formazione diversa rispetto a quella tradizionale che sarebbe impossibile da somministrare in una vita, a una persona che fa questo lavoro che in realtà ne ha bisogno domani, perché domani gli arriva l'ospite in casa. Ecco. Ecco, allora diciamo che in poche parole hai fatto già una navigazione che è durata qualche anno, ma torniamo indietro a prima, prima, prima di questa avventura che già siamo arrivati, diciamo, a uno step più recente. Allora, tu sei un imprenditore sostanzialmente. Intanto, cos'è che ti spinge ad essere imprenditore? Perché è una vocazione, è un'attitudine. Perché sei un imprenditore? E come ha cominciato la tua avventura? E come si è svolta? Raccontaci un po'. Beh, io prima di fare l'imprenditore ero uno studente come tanti di gestione risorse umane e relazioni industriali e per mantenermi agli studi facevo il cameriere. Mi ricordo la scena, uno dei tanti matrimoni, lavoravo in un catering, e mi ricordo questa scena della sposa alla fine del matrimonio che in questa villa si avvicinava verso il buffet con un'aria felice, soddisfatta. Aveva finalmente realizzato il sogno della sua vita, si era sposata, era andato tutto bene, si vedeva che il matrimonio era andato liscio e si avvicinava verso il buffet e noi eravamo lì a smontare. Quindi io l'ho guardata con un sorriso, salvo poi attraversarmi e andare a ringraziare il proprietario del catering, giustamente. E ho detto, ops, mi ero fatto un'idea che in che modo avessi contribuito anch'io a quella cosa lì, invece no. Quindi da allora ho detto, no, voglio essere io quella persona che realizza cose belle o comunque viene riconosciuto come... e da lì poi è nato il tarlo di voler fare qualcosa in proprio e dopo aver conosciuto una casa vacanza durante un viaggio mi sono innamorato di questo settore, di questo modo di fare ospitalità diversa da quella tradizionale alberghiera e ho aperto da lì il mio bed and breakfast. Ecco, la miccia è stata questa, quello che è successo dopo è stata una splendida avventura. Ma in più o meno in che anno, in che epoca storica siamo? Era il 2005-2006. Ah, ok, ok. Quindi diciamo una ventina di anni fa. Ecco, diciamo a tappe così, perché noi ci siamo già parlati un pochettino prima di questa trasmissione per organizzarci e mi dicevi che all'inizio è andata molto bene ed era molto business oriented. Ecco, non so se ci vuoi un po' raccontare. Assolutamente, sempre cercando di rimanere nelle tempistiche razionali di un webinar. Posso dire che i primi anni, certamente i primi 4-5 anni, sono stati di grande soddisfazione, di tipo personale, magari a livello economico ancora i risultati non si vedevano, ma ero felice perché finalmente ero quella persona che gli ospiti venivano a ringraziare. ero quella persona citata nelle recensioni di TripAdvisor. Maurizio, io avevo iniziato ad esistere, non solamente per quelle persone, ma per il mondo. Ce l'ha scritto Danilo sui portali web che tutti vedevano e quindi ero felicissimo. Poi, naturalmente, come tutto, all'inizio c'è entusiasmo, poi uno si abitua, no? E quindi la sfida era crescere e cercare di fare qualcosa anche per comprare una casa, sistemarci, no? Fare qualcosa di più rilevante dal punto di vista economico. E ho iniziato nel 2009 ad aggiungere unità, prima ampliando il bed and breakfast, poi aggiungendo alcuni immobili in gestione vicino alla mia... Airbnb ancora non esisteva quando ho iniziato a fare questo tipo di attività. e da lì mi sono ampliato e cresciuto il business fino ad avere il problema della gestione dei dipendenti, perché vedevo e facevo le cose io, venivano bene, poi le faceva il mio collaboratore e venivano male. Eppure erano brave persone, come dire, dicevano di fare esattamente quello che io gli chiedevo, ma non funzionava. Quindi mi sono fatto la domanda come fanno gli imprenditori a gestire centinaia di dipendenti e ho iniziato a guardarmi intorno e a seguire dei corsi di formazione per imprenditori e cercare di capire come appunto si fa. Senza fare i nomi, sono entrato in alcuni network di formazione diciamo di tipo motivazionale alla Anthony Robbins, per essere chiaro, che mi hanno aiutato tantissimo in quegli anni a crescere, ad avere più fiducia di me, a gestire le persone, eccetera. E quindi l'azienda effettivamente è cresciuta tanto, fino al 2018, quando sono nate anche più aziende, una si occupava, ad esempio, della gestione di camere per studenti Erasmus e a Firenze avevamo una settantina di camere dedicate a questo, fatturava più di 300 mila euro. L'altra azienda era arrivata a fatturare due milioni ed è arrivata poi alla fine, addirittura fino a tre milioni di fatturato. Avevo iniziato a avere il mio tempo libero, avevo conosciuto le procedure, la delega, quindi avevo impostato l'azienda in maniera diciamo sistemata, ecco. Quindi non c'era più motivo per, come dire, correre, eppure mi ritrovavo invece in una situazione paradossale. Non che avessi bisogno di lavorare per guadagnare, ma mi trovavo costretto a, come dire, lottare tutti i giorni per poter mantenere uno standard desiderato. e questa lotta era talmente ardua che a un certo punto era diventata sfiancante. Io praticamente vivevo per lavorare, tanto è che anche in casa la mia famiglia, mia moglie in particolare, aveva iniziato, come so che capita a tanti, a far notare questa assenza, no? Io da buon terrone dicevo, ma io sto lavorando per la famiglia. La risposta era, sì, ma tu non ci sei. E questa cosa mi ha mandato completamente in tilt. Quindi nel 2018-2019 mi sono trovato a scegliere cosa vuoi fare? Vuoi continuare a crescere, a alimentare quest'ego e continuare a costruire per chi non si sa? Oppure vuoi conservare la famiglia che ami? Cioè, non c'era una E congiunzione, c'era una O, o una cosa o l'altra, perché non avevo strumenti per farle tutte e due. e quindi ho deciso naturalmente la famiglia, ho iniziato a dismettere tenendo solamente la scuola e poi lì è successo l'imprevedibile, no? Perché c'è stata la pandemia di mezzo che ha un po' stravolto e peggiorato tutti i piani, perché già avevo deciso un downgrade importante sullo stile di vita e via dicendo. vendendo l'ultima azienda che aveva 3 milioni di fatturato e un milione di debito, quindi di fatto era stata una vendita a zero pur di liberarmene, questa azienda durante il Covid poi è fallita tirandomi dentro questo fallimento. E quindi mi sono ritrovato non solo a non avere più le aziende, ma anche con perdere tutto, ovviamente perché in quel periodo con il fallimento tutto quello che hai va via e oltre perché poi mi sono ritrovato con un debito enorme che piano piano naturalmente stiamo gestendo. Quindi la situazione che mai mi sarei immaginato pochi mesi prima frutto di una scelta voluta quella di in qualche modo però non è che volevo arrivare come dire a tanto a proprio non avere niente. Mi sono ritrovato a ripartire da zero. da lì la scelta per risparmiare l'affitto di tornare giù io vivevo a Firenze ho vissuto vent'anni a Firenze di tornare giù in Puglia dopo un anno di tentativi di cercare di mantenere lo stile di vita a Firenze non era possibile perché poi la pandemia è durata due anni si può dire quindi ci sono state un po' di difficoltà dal giorno in cui sono arrivato in Salento essere insieme alla famiglia con i bambini nel frattempo era nata la seconda bambina e non avere più intorno quella pressione della città che in qualche modo ti ricorda sempre di correre ti mette in competizione dal punto di vista emotivo è come se fossi rinato dal primo giorno appena ho messo piede in Salento ho vissuto il miglior periodo emotivo della mia vita connessione con la famiglia con i bambini tutto apposto economicamente insomma non era proprio il miglior periodo però avevo Maurizio avevo la chiave dell'economia civile e ho detto è vero io sono ottimista di base Maurizio quindi cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno in questo caso avevo avevo avuto un sacco di tempo per studiare e avevo imparato che cos'era l'economia civile ho detto visto che riparto da zero come si fanno i soldi già lo so perché so esattamente che devi trovare una cosa che piace al mercato una cosa che sai fare la ripeti all'infinito alla noia e produci denaro quindi questa tecnica ormai l'avevo imparata l'avevo replicata in più aziende però non ero più disposto ad avviare un'azienda perché sapevo esattamente dove mi andavo ad infilare ero in questa situazione qui ma grazie a una nuova al nuovo paradigma dell'economia civile ho detto sai che proviamo visto che ho la fortuna di partire da zero proviamo ad applicare questi concetti alla realtà e quindi ecco prova se posso interromperti siccome non penso che il nostro pubblico sappia o non tutti sanno che cosa è l'economia civile vuoi tratteggiare perché diciamo quando ne parlamo appunto un po' di anni fa anche noi di Artes siamo come te una società benefit e siamo partiti con l'economia civile che ha dei ragionamenti che sono un po' diversi dall'economia normale ecco non so se vuoi inquadrare e poi ci parli di come poi hai realizzato il progetto che cosa è l'economia civile? studiato l'economia civile è un paradigma appunto è una lente sulla realtà un modo di vedere il mondo che è diverso alternativo se vogliamo all'economia politica che il paradigma invece che ha adottato la nostra società occidentale già da più di 200 anni le differenze fra questi due paradigmi che è quella più importante di tipo antropologico nella società che viviamo vige homo homini lupus che poi si è evoluto in homo economicus fondamentalmente morte tua vita mia io guadagno se tu perdi il mio come dire la mia sfida di tutti i giorni è cercare di guadagnare fregandoti però facendolo nei limiti della legge quindi sfruttandoti nei limiti della legge quindi questa è la sfida ecco ed era quello che facevo io anche perché mi avevano insegnato a lavorare così anche il contratto nazionale del lavoro è così il lavoratore contro il datore di lavoro da una parte e quindi è sempre così dall'altra parte c'è un approccio antropologico estremamente diverso non è più il lupo famelico ma l'amico quindi nell'economia civile vige la frase homo homini natura amicus quindi ogni uomo per natura e quindi cambia l'approccio all'altro l'altro non è più qualcuno di cui aver paura o che devi sbranare per la tua sopravvivenza ma è un amico con il quale magari ci puoi anche litigare questo va da sé tuttavia non ci si comporta sarete d'accordo con me allo stesso modo le implicazioni pratiche nella società dell'economia civile sono proprio l'esistenza di quel quell'aspetto tipico delle relazioni di famiglia o comunque delle relazioni umane che stanno nella reciprocità che poi sono anche l'elemento motore del terzo settore terzo settore che è l'espressione massima diciamo di questa visione infatti nell'economia politica esiste lo Stato ed esiste il mercato dove al mercato vengono delegate diciamo le le trattative che ci devono essere per carità il valore il prezzo di mercato e via dicendo mentre lo Stato viene affidato il compito di legiferare però l'essere umano non vive solamente di soldi o di leggi di imposizioni certo ha bisogno di questo l'essere umano ha bisogno di essere guidato e ha bisogno di uno strumento per le relazioni di scambio però ha bisogno anche di molto altro nessuno si mette a negoziare con il figlio se il figlio è in difficoltà se è d'accordo con me o comunque con l'amico e via dicendo quindi queste relazioni si sono espresse poi in Italia nel terzo settore ci sono sempre state nella storia l'umanesimo il rinascimento sono tutte espressioni di un un altro attore protagonista del delle relazioni quindi dell'essere umano dell'esistenza dell'essere umano di cui noi ci siamo completamente dimenticati le conseguenze di non aver tenuto in considerazione la persona per cui stanno facendo tornare di moda l'economia civile quando Maurizio poi è venuto li abbiamo invitato per la nostra scuola a spiegarci di cosa si parla le prime slide io me le ricordo benissimo sono ansiolitiche cioè il fatto di non tenere in considerazione la persona ha portato negli ultimi decenni in particolare all'aumento della temperatura all'inquinamento a tutta una serie alla perdita di biodiversità perché è evidente se io posso fare danni fino a che non me lo consenti cioè l'approccio se io non tengo in considerazione in realtà ciò che sono comunque come si chiama le cose che i danni che io produco all'ambiente o le cose che faccio di male per le mie per le future generazioni no? è evidente che ho una visione del mondo estremamente ridotta che oggi è diventata urgente le nuove generazioni ne hanno bisogno di sperare che nel 2050 il mondo non finisca ne hanno bisogno sembra che hai imparato bene tutto il materiale ma poi ti chiederò anche una cosa vorrei dire anch'io visto che appunto è stata un po' la scintilla che ci ha messo insieme perché anche per me è la stessa sensazione io ho sempre lavorato nell'economia di mercato sempre tutta la mia vita e a un certo punto come esattamente come te poco tempo per la famiglia profitto tutti i costi perché l'economia di mercato mette al primo posto il profitto lo mette per legge cioè se voi andate a vedere la legge dice che l'obiettivo di un'impresa è massimizzare il profitto l'economia civile dice una cosa diversissima l'economia ha l'obiettivo di massimizzare il valore per la persona di cui il profitto è una parte perché è chiaro che senza il pane non si mangia scusate senza un soldino non si mangia e questo però cambia come tu stavi raccontando tutti i rapporti perché se la persona è al centro allora tutta l'economia deve creare il bene sociale il bene comune e qua si apre tutto il mondo e quindi ecco l'assist per dirti vuoi dire approfondito tutto questo argomento e ti ringrazio per la tua diciamo per aver aperto l'origami tutte le sue componenti che cosa è successo concretamente per la tua attività cosa è cambiato è cambiato che il profitto non era più l'unico obiettivo ma insieme a questo c'era un obiettivo e c'è un obiettivo forte di benessere inizialmente un benessere benessere e aggiungo felicità anche per per chi per me per la mia famiglia ovviamente e per le persone coinvolte ora mi sento totò nel film non so se l'avete visto no vai vai che vai dire chiusa parentesi e poi in realtà una volta come nelle migliori piramidi di Maslow una volta raggiunto questo ho iniziato a capire che il concetto che Zamagni divulga dell'approccio del castoro in realtà è proprio un modo di fare un modo che dà tanta soddisfazione praticamente qual è diciamo un po' il sunto del modo di fare dell'imprenditore dell'economia civile è agire come il castoro che è tra le specie animali e una delle poche per carità ma insomma esistono che nel fare nel proteggere i propri cuccioli nel creare il proprio habitat quindi nel creare gli sbarramenti nei fiumiciattoli quindi il proprio laghetto eccetera crea un habitat anche per le altre specie animali i rigirini i pesciolini le rane le piante e quindi e questo è un po' il sunto di un approccio che è come dire prende senza togliere e dà senza privarsi bellissimo la scriviamo grande questa frase che hai detto bellissimo ecco quindi raccontaci diciamo che da lì in poi concretamente la tua attività come è evoluta diciamo fino ad oggi che dietro di te c'è scritto vivere di turismo il festival dove nel sito c'è scritto della felicità si parla della felicità ecco questo concetto come si è concretizzato nella tua organizzazione nei servizi che hai dato e nella tua community perché questo concetto mi sembra tu lo stai diffondendo e stai creando una community che condivida questi valori noi in Italia abbiamo la fortuna di avere un patrimonio estremamente importante sia di tipo un patrimonio di tipo culturale enogastronomico biodiversità ma anche diciamo l'Italia è veramente un luogo che nei prossimi anni crescerà tantissimo come numero di visitatori tutte le ricerche tutte le statistiche indicano che ci sarà un aumento delle presenze significativo anno su anno che dovrebbero essere anche dieci volte l'aumento del PIL generale dell'Italia quindi il turismo è sicuramente un settore che crescerà tantissimo ora questa è una buona notizia evidentemente però c'è anche l'altro lato della medaglia queste persone che arrivano in Italia che arriveranno economie emergenti India Cina maggiore disponibilità delle persone tempo libero via dicendo saranno strumento per lo sviluppo dei territori per il loro presidio per lo sviluppo delle comunità che le abitano o saranno i nuovi colonizzatori di queste dell'Italia quindi noi siamo un po' cerchiamo di dare una risposta a questa domanda concreta dicendo visto che abbiamo dieci anni davanti per costruire il futuro dei nostri territori dei singoli borghi dei paesi delle città di qualunque territorio in Italia in tutta Italia il turismo è già presente si sta sviluppando ecco vedendoci un po' protagonisti ecco che possiamo anche fare qualcosa nella direzione di alimentare il turismo secondo quelle sono le necessità della comunità questa visione ci ha portato a creare un evento il vivere il turismo festival dove insieme a strumenti ovviamente di natura pratica legale dedicata a host property manager proprietari che vogliono avviare l'attività offriamo anche questo bonus diciamo di inclusione all'interno di una community che l'anno scorso aveva per tema custodi di bellezza cioè l'anno scorso al festival abbiamo detto noi non abbiamo nessun merito per lavorare in Italia se ci sono i turisti che vengono e perché tanti anni fa vuoi per ingegno vuoi per per tanti motivi sono state realizzate delle belle cose e quindi oggi arrivano le persone a vederle e a viverle quindi vogliamo proprio essere così insignificanti diamoci un ruolo no cosa di meglio che essere diciamo un ponte tra questo e ciò che succederà in futuro ma per permetterci di vedere un'Italia di nuovo grande bisogna custodirla i beni che oggi magari vengono restaurati è evidente che se per 300 anni sono stati abbandonati probabilmente se non sono caduti giù è perché qualcuno li ha custoditi quindi noi oggi siamo custodi di bellezza e questo essere custodi di bellezza ci dà già le prime chiavi di di azione quindi cosa fa un custode di bellezza si prende cura del proprio territorio ristruttura gli immobili in un certo modo cercando di portare anche all'interno delle case ciò che sono gli elementi identitari presentando alle persone ciò che rappresenta il proprio territorio quindi un ruolo diverso un po' più ampio rispetto a quello che affittare solamente una stanza o un appartamento è piaciuto tanto l'anno scorso fu come dire una novità non sapevamo neanche noi vi dico in tutta sincerità cosa sarebbe stata la risposta del pubblico abbiamo avuto mille partecipanti c'è stato un entusiasmo incredibile un senso di connessione di umanità fortissimo che ci ha dato coraggio anche perché organizzare un evento al pala congressi di Rimini con uno standard alto in questo modo costa tantissimo noi siamo una piccola realtà non siamo un ente fiera ovviamente quest'anno abbiamo deciso invece di evolvere questo ragionamento col tema della felicità quindi il tema del vivere il turismo festival 2024 è pionieri di felicità in questi pionieri racchiudiamo un po' quello che abbiamo già condiviso in questo webinar temi tra virgolette nuovi ma che sono sempre esistiti in Italia e hanno sempre fatto parte della cultura di questa nazione quindi il tenere in considerazione il bene i romani quando conquistavano i popoli erano altre epiche ovviamente a differenza di altri conquistatori esportavano cultura davano know-how e ricevevano poi il grano e le altre cose e gli imperatori romani sono stati anche persone che venivano da fuori Roma abbiamo avuto anche imperatori che venivano dall'Africa quindi l'Italia da sempre ha avuto un approccio aperto in questi termini anche noi oggi possiamo attraverso il turismo che non è un bene non è una merce non si può valutare il turismo come dei bulloni o come uno scambio così banale è un intangibile è un intangibile il turismo è un cosiddetto bene relazionale vado in vacanza per staccare per cercare per ritrovarmi per ritrovarmi con la mia famiglia per crescere come persone e via dicendo non posso essere sfruttato come turista o fregato con la forchetta come dice sempre Zamagni cannibal wheat forks gli inglesi chiamano così nuovi come dire imprenditori dell'economia politica ecco scusa se ti interrompo un attimino perché hai già citato due volte il professor Zamagni che è diciamo il guru con Luigino Bruni Becchetti eccetera c'è un gruppo di pensatori professori universitari che sono i paladini dell'economia civile penso fossero i professori che ti hanno formato sulla esatto la scuola chiusa la parentesi esatto esatto quindi allora questa felicità il turismo per noi è bene relazionale il bene relazionale genera felicità perfetto io sono consapevole che il mio ruolo non è quello di chiederti più possibile darti il meno possibile di servizi così da ottimizzare il mio profitto ma è quello di vederti come una persona che sta facendo un'esperienza e capisco che trattandoti bene e inserendoti in un certo modo all'interno della mia comunità sto dando l'opportunità a mio figlio di conoscere una persona che abita a New York e domani essere ospitato da quella persona oppure creare un aggancio tra il ceramista e quella persona che vuole fare dei regali magari diversi e quindi aprire anche dei mercati che sarebbero impensabili attraverso cosa attraverso la relazione cioè lo scambio umano sincero attraverso un occhio nei confronti del prossimo amico e non pauroso perché il turista non ci vuole fregare il turista quando viene viene veramente col sincero interesse di migliorare la sua vita e di anche cercare di come dire lasciare qualcosa sul territorio perché là spende i soldi il turista essere fatto bene ogni tanto ti interromperò e ti chiedo scusa su questo filone di pensiero noi sappiamo che in Italia abbiamo tutta una fetta di turismo overcrowding che sicuramente non è allineato per sua natura perché è un turismo consumistico cioè si consuma il viaggio si consuma andare a Venezia andare a Roma ecco questo tipo di turismo che cerca l'inserimento l'immersione noi ne parliamo da più di dieci anni di queste cose perché in giro per il mondo abbiamo intercettato un fenomeno in crescita che tra l'altro secondo quello che capiamo ma penso che dico cose simili a quelle che dici tu voi sapete che l'Italia è la più desiderata meta turistica ma non è la più acquistata quindi è chiaro che c'è qualche problema allora questo turismo di cui tu parli lo vedi in zone in destinazioni nuove lo vedi nelle stesse destinazioni che però cominciano a dare un'offerta diversa perché il bene relazionale richiede l'uomo italiano l'uomo che accoglie l'uomo che fa il breakfast l'ex alberghiero cioè l'anima di quest'uomo deve cambiare allora quindi non è solo business non è solo profit ma è uomo al centro relazione quindi il capitale umano il capitale sociale bene relazionale è appunto quello che supera in aggiunta complementa in aggiunta il valore economico ecco non so se ci puoi dire qualche cosa anche perché altro inciso che ti passo come riflessione questo tipo di turismo di cui tu parlavi in aumento immagino che tu ti riferisca all'aumento degli anziani per esempio nel mondo occidentale io personalmente sono del 58 e sono nella generazione che creiamo il problema della pensione perché noi siamo tanti e abbiamo il problema di che fare come dire nel tempo libero che prima non c'era e poi tante persone hanno più tempo per viaggiare e appunto c'è tutto il tema del turismo sostenibile ecco così accenno anch'io qualcosina voi sapete che esistono diversi standard sulla sostenibilità il più famoso europeo è il cosiddetto GSTC Global Sustainable Tourist Council di cui un elemento è esattamente quello che ha detto Danilo cioè come dire non è il consumo del turismo ma inserirsi in punta di piedi con le persone del posto condividere le tradizioni sentirsi cittadino temporaneo è la destinazione che si organizza tale scopo ecco tutto sto ragionamento tu come lo vedi dal tuo diciamo avendo 1300 persone che vengono avrai sicuramente una posizione una vista più alta rispetto magari ad altri cosa ti sembra che succede turismo aumenta ma dove ma come che cosa succede ti posso dire quello che diciamo posso fare un parallelismo tra quello che ho vissuto come persona e che ho scoperto sia più o meno la storia di tante persone abbastanza condivisa essere un po' stanchi di essere nella ruota del criceto ma pretendere quasi di essere riconosciuti per il proprio valore non per il valore economico che uno produce che non dipende necessariamente dall'impegno ma dipende anche dal contesto ecco poi c'è un ragionamento legato a un po' di statistiche italiane noi abbiamo più del 95% delle aziende che sono micro imprese e queste micro imprese sono rappresentate da aziende familiari o piccole piccolissime imprese fino a 15 dipendenti ora la caratteristica delle micro imprese come anche gli alberghi in realtà in Italia sono l'80% degli alberghi sono indipendenti a differenza di altre nazioni dove invece è quasi invertito pensiamo alla Francia eccetera quindi questa caratteristica proprio del tessuto economico che ci hanno sempre criticato ci hanno sempre detto voi in Italia non siete capaci di fare rete non siete capaci di far crescere le attività non siete capaci industrializzarvi non siete capaci di organizzare quindi creare delle grandi aziende che possano in qualche modo rappresentare via dicendo io oggi non lo so se è un bene o un male dico che questo è questo siamo ok e certamente può essere criticato ma può essere anche un valore aggiunto se è guardato con con questa ottica e il valore aggiunto qual è? che in particolare nel turismo nessuno ha piacere di mettersi in un alveare essere considerato un numero oppure fare un tour seguendo una bandierina andare a vedere entrare e uscire dalle chiese è evidente che in particolare se parliamo di turismo beh direi che le piccole realtà qualcosa diciamo di appeal ce l'hanno e come se ce l'hanno tant'è che e torno diciamo a quello che si diceva prima sul fatto che sta crescendo la domanda in Italia e noi dobbiamo se lo capiamo questo possiamo semplicemente rimanere ciò che siamo con una consapevolezza in più di essere importanti e anzi decidere di impattare sulla nostra destinazione se faccio un esempio pratico no mi trovo a Biccari quello che è successo al sindaco di questa cittadina di Foggia e ho delle problematiche come lo spopolamento comune nell'ottanta per cento dei borghi italiani ho il problema delle case abbandonate quindi il centro storico in degrado ho il problema di mancanza di fondi e quindi in quel caso l'abbandono del bosco ho il problema della chiusura di attività economiche anche primarie per la cittadinanza addirittura la chiusura della scuola per il non raggiungimento la scuola elementare quindi i bambini che si devono spostare piccolini i genitori con tutti i disagi sulle montagne e via dicendo quindi ho tutta una serie di problemi dall'altra parte ho un'opportunità il turismo ecco cosa hanno fatto lì hanno creato un patto con la comunità dicendo noi vogliamo aprirci al turismo ma non lo vogliamo fare a tutti i costi lo vogliamo fare per migliorare le nostre criticità fare in modo che i soldi dei turisti servano a migliorare anche la situazione del cittadino e da lì è nato il parco avventura che fa anche un botto di presenza sulle case dell'albero sull'albero che è gestita da una cooperativa di comunità di Biccari quindi ha creato 20 posti di lavoro intrattenimento per i cittadini e quindi turismo anche da un bed and breakfast sono diventati 11 sono nati alcuni ristoranti è nato un programma dove hanno venduto mi pare una cinquantina di immobili attraverso un'associazione con la quale sono entrati in connessione Italia-Argentina si chiama e hanno ricevuto 20.000 richieste di acquisto di questi immobili quindi sono immobili che il comune e i privati hanno messo a disposizione e hanno creato un bando per la vendita e la ristrutturazione raccontando una storia quindi facendo una narrazione su il fatto che l'acquirente poteva vivere un'esperienza in un comune che è una narrazione che tutti possono raccontare e la cosa bella è che oltre a non chiudere la scuola oggi è popolata da ragazzi argentini che parlano spagnolo per cui i ragazzi alle scuole elementari parlano già giocano a pallone con gli argentini e quindi è una cosa bellissima questo è raccontato nel libro ospitare fa bene di Gianfilippo Mignogna che quindi è diventato già un modello concreto di come sia possibile applicare in questo caso grazie anche all'amministrazione questi principi in Sicilia invece c'è un altro modello che sta avendo un successo enorme sempre portato avanti da una cooperativa di comunità che ha scelto di prendersi cura della città di Sciacca creando il museo diffuso dei Cinque Sensi dove si mette in evidenza la bellezza dei posti quindi vengono accompagnate le persone come cittadini temporanei da persone del posto a scoprire le bellezze del posto e quindi si vive un'esperienza autentica conoscendo la Sabrina dei Coralli Antonio del che ti fa vedere come fa le statuine e puoi fare anche esperienze quindi lavorare la terracotta però sempre trattato da persona e questa cosa si può applicare anche ai gruppi noi siamo andati con l'azienda a vivere l'esperienza per far conoscere la teoria anche ai miei collaboratori ho portato a maggio tutta l'azienda giù a Sciacca dopo di noi c'era un'azienda americana con 130 dipendenti che andava lì a fare team building quindi non è una cosa che dici per poveri sfigati è qualcosa che si può organizzare può funzionare certo ha dei limiti di sostenibilità imposti da loro stessi ognuno si pone i propri limiti però ecco è straordinario come si possa utilizzare la domanda che c'è ci sarà sempre più forte per alimentare la crescita allo sviluppo della propria del proprio paese della propria comunità noi poi siamo specializzati nella gestione degli immobili ovviamente una parte del processo sì certo una parte della filiera però mi sembra che da tutto questo che racconti il tuo il vostro contributo sia di visione perché a questo punto avendo appunto una visione di realtà tante realtà in tutta Italia e avendo anche grazie a Dio delle capacità imprenditoriali c'è una visione e diventate quelle che si definiscono gli agenti del cambiamento cioè con la vostra diciamo formazione consulenza mi sembra che diventate io dico sempre quelli che spingono la montagna da soli la montagna non si sposta ma siamo in cento siamo in cinquecento siamo in mille mille e trecento e quando la montagna comincia a spostarsi ecco non so se dico una cosa potrebbe essere opinabile ma la mia esperienza è che allora il pubblico allora ti guarda non vorrei sembrare un eretico ma l'attività pubblica è sempre un po' conservativa è difficile che sia innovativa perché deve mantenere il consenso però se vede che c'è una spinta non può essere indifferente quindi tutti questi movimenti e la tua community sono un modo per spingere in questa direzione ecco tra l'altro voglio approfittare anch'io così racconto qualcosina vedo questa cosa perché anche noi ci muoviamo un po' in tutta Italia noi stiamo lavorando con alcuni gruppi di comuni in Campania e la regione Campania ha già da un anno ha indetto un finanziamento per i borghi interni quindi situazioni dove turismo zero ed è un inizio progetto che si chiama Borghi Salute Benessere quindi proprio in linea con tutti questi discorsi e come dire anche a me è capitato di andare in giro vedere questi paesini bellissimi spopolati con le case che se tu le vuoi comprare con 10.000 euro ti compri la casa ecco allora ho visto in altre situazioni in questo caso non la Campania ma vicino a Domodossola c'è un paesino che è stato acquisito dagli americani un gruppo di architetti americani si sono diciamo hanno acquistato e l'hanno trasformato in un posto molto bello quindi gli stranieri gli italiani stessi ecco questi posti sono genuini la gente è autentica ecco non è gente semplice c'è un po' di campagna tanti se ne sono andati ecco quindi mi sembra una cosa da dire io la sto ripetendo appena posso perché un progetto come questo della regione Campania sinceramente è la prima volta che lo vedo in Italia perché molto spesso si dà finanziamento a pioggia ma il singolo comune tipo il PNRR il PNRR i singoli comuni hanno preso dei soldi ma il problema non è solamente ristrutturare due case la chiesa il museo il problema è vendere cioè promuovere e questo progetto della campagna non l'avevo detto da una parte c'è una sistemazione dell'offerta quindi appunto i borghi le esperienze ma dall'altra hanno costituito una società pubblica che si occuperà della promozione dell'interno della campagna quindi togliendo il problema ai comuni i comuni non possono non hanno le competenze le infrastrutture per fare marketing ecco quindi bene allora niente scusa ho fatto questo inciso perché volevo sostenere quello che tu stavi dicendo quindi il tema della felicità la felicità riassumo quello che mi sembra stavi dicendo nasce dai beni relazionali che hanno una caratteristica incredibile perché non inquinano non consumano sono immateriali ma fanno un gran bene le persone e non solo le persone anche al portafoglio aggiungere anche il portafoglio nel nostro settore ci sono proprio esempi e quello che poi diremo al festival come attraverso un approccio di questo tipo si migliorano le recensioni e migliori le recensioni vuol dire un prezzo medio di vendita più alto una massimizzazione dell'occupazione certo certo è una visibilità gratuita perché le persone parlano bene di te ma questo è esplosivo ecco mi sembra che tutto questo ragionamento che tu hai impostato che ovviamente anche noi di Artes condividiamo il mille per mille sia il vantaggio competitivo degli italiani noi diciamo sempre l'Italia può far felice tutto il mondo ora servono gli italiani ecco mi sembra che tu stai assodato che l'Italia può far felice perché può far felice perché ha le strutture e le cose antiche le cose meravigliose ma ha l'empatia delle persone che tra l'altro devo dire più si va verso il sud Italia più aumenta per cui questo sistema diventa a mio avviso poi mi dirai tu cosa ne pensi una chiave di sviluppo enorme per il centro sud Italia enorme perché il vantaggio competitivo dell'empatia relazionale è propria di quella di quella parte dell'Italia ecco non so cosa ne pensi di questo ragionamento io penso appunto come accennavo noi non dobbiamo inseguire i modelli degli altri abbiamo il nostro e quindi fatto cioè non è sbagliato quello di essere empatici in maniera relazionale o essere persone no che parlano ad altre persone mi piace dire che siamo sempre persone che accolgono persone quindi poi certamente bisogna lavorare bene ma la sostenibilità economica ognuno pensa un po' alla sua per me possono essere può andare bene mille euro per quell'altro cinquemila o per quell'altro diecimila la cosa importante è che tutti lo facciamo nel rispetto delle persone che vengono a visitarci nel rispetto dei beni comuni quindi non sfruttando il territorio inquinando o fregandosene perché anche il non agire è un il non fare nulla per le future generazioni comunque oggi diventa una responsabilità cioè non può essere trascurabile io come dire tutto quello che ci hai raccontato personalmente mi apre il cuore tutte queste cose verranno raccontate sviluppate gruppi di lavoro alla manifestazione vivere di turismo festival ecco non so se puoi dire perché nel frattempo mi sono accorto che il nostro tempo sta terminando avrei voluto magari una domanda due domande se qualcuno ce le ha magari si fa vedere sulla chat e gli do la parola anche se sforiamo 5 minuti non si morirà ma forse c'è da dire qualcosa per chi volesse partecipare a questa manifestazione che si svolgerà nei giorni 13 e 14 di novembre a Rimini ho visto che nella chat qualcuno ha messo il sito vivereiturismofestival.it lì dentro ci sono tutte le informazioni per partecipare domani scade anche l'offerta che mettiamo ovviamente per il motivo che poi le persone non si decidono mai e quindi domani si può usufruire ancora dello sconto del 54% fino al 54% sul prezzo e poi tutte le informazioni naturalmente le trovate o sul sito o se avete bisogno possiamo naturalmente sentirci approfondire e valutare insieme anche se volete venire e come volete farlo insomma siamo a vostra disposizione sarà sicuramente un'avventura io anche ti ringrazio che mi hai invitato a raccontare un po' queste cose che tu hai detto io forse un pochettino le racconterò dalla 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 nostra prospettiva e siamo arrivati praticamente un pelino lunghi perché avrei voluto colpa mia perché mi sono messo a parlare anch'io finire cinque minuti prima ecco chiedo se qualcuno volesse fare una domanda volentieri anche un'osservazione magari prima mi scrive sulla chat e poi gli diamo la parola ecco se non vedo che nessuno sta scrivendo volevo chiedere solo il sito dovevo poter vedere questo festival ecco nella chat nella chat dovresti vedere viverediturismofestival.it confesso che sono stato io Danilo a mettere confesso che l'ho fatto io ecco quindi se volete andare lì il sito è molto molto bello ci sono un po' di cioè si intuisce che cosa accade e devo dire che è molto emozionante cioè già vedendo così poi quello che mi ammiro di Danilo della sua organizzazione è la precisione come dire i dettagli ecco il che vuol dire che ci mettono amore insomma ecco come si diceva prima l'amore genera i beni irrazionali i beni irrazionali la felicità esatto ma scusa Danilo è così prego di quale città sei Foggia o io di Superzano Superzano provincia di Leccia vicino Ruffano Casarano Superzano devo scrivere Superzano ok grazie sì lì stanno molto bene perché a Superzano non si amarrano mai ovviamente va bene allora cari amici che ci avete ascoltato speriamo che se non ci sono ancora appunto interventi domande qualcosa da chiedere mi sembra che non è non sta emergendo al momento niente se avete qualche cosa che volete chiedere andate sul sito sul sito Vivere di Turismo ci sono tutti i box di contatto se invece avete qualcosa da chiedere ad Artessa andate sul nostro sito che non solo come promemoria ve lo scrivo www.progettoartess.it questa trasmissione è stata registrata la pubblicheremo su YouTube come tutti i nostri webinar sarà possibile riascoltarla gratuitamente diciamo che il nostro piccolo contributo come società Benefit è organizzare gratuitamente tutte queste iniziative che ci danno modo di creare i beni relazionali e di alimentarli ecco con i relatori in questo caso con Danilo ma anche con tutti voi che ci state ascoltando perché alla fine diciamo l'amicizia la relazione nella vita è quello che conta io voglio ringraziare ancora Maurizio ringraziare voi perché siete dopo quattro anni da questa sventura imprenditoriale del fallimento di un'azienda che ovviamente non è banale da digerire da gestire e anche da condividere siete le prime persone pubbliche poi le persone che vedranno il webinar saranno le future però le prime persone con le quali ho potuto serenamente affrontare questo ragionamento e che dove mi sono sentito un po' a casa ecco libo che potremmo ringraziare ripeto Maurizio certamente però di riflesso mi sono fidato anche di voi e quindi volevo dirvelo per me non è stata per niente banale questa serata me la ricorderò a vita senti grazie ed è proprio come dici tu come si diceva all'inizio la splendida avventura di Danilo Beltrante avete capito che la splendida avventura non ci esime di avere tanti problemi ma il tema della resilienza il tema di buttare il cuore oltre l'ostacolo e una volta che l'abbiamo fatto scopriamo un mondo che si apre perché le difficoltà alimentano ci alimentano interiormente allora io vi ringrazio tutti è stato un piacere della Marika della Marika chiede se può venire una sola giornata sì Marika scrivi magari nel sito c'è c'è la mail per chiedere questa informazione e poi ti daranno tutte le informazioni mi era scappata chiedo scusa sì 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 allora vedo che tutti ringraziano è stato veramente un piacere come vedete non sono dei webinar pubblicitari non sono dei webinar filosofici ma sono dei webinar in cui parliamo della nostra vita del nostro lavoro in questo caso del turismo ecco e si possono fare cose belle grazie Danilo e grazie a tutti ci vedremo nella prossima grazie a tutti 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 grazie ancora allora arrivederci alla prossima occasione e buon lavoro a tutti quanti ecco e magari speriamo di ritrovarci a vivere di turismo festival così ci conosceremo di persona grazie ciao a tutti buonasera buonasera ciao ragazzi ciao Danilo grazie ancora veramente grazie